benvenuti benvenuti cari amici siamo un video di questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di subito di like, iscrivi al canale, iscrivi anche al canale del gram il token bgb di bitkit potrebbe fare letteralmente quello che ha fatto crow nella precedente buran andremo a ragionare su tutto questo per cui andremo a vedere i dati andrò a vedere come potenzialmente in questo momento di mercato abbiamo delle analogie ovviamente non sono ne così finanziare e così trading e per cui iniziamo subito iniziamo ragionando su crow e poi passeremo su bgb bitkit ovviamente se anche tu vuoi iscriverti a bitkit trovi sotto il mio ref in descrizione avrai 20% di sconto letteralmente sulle trading fees quindi andremo a vedere crow in questo momento di mercato siamo a 0.067 centesimi che pensano di mercato di 1,7 miliardi e ovviamente crow è praticamente listato su ogni exchange come possiamo vedere letteralmente qui sotto quindi andate anche voi a controllare e vorrei mostrarvi ok quello che il suo precedente volta mai che addirittura risale a 0.95 centesimi come andremo a vedere su trading view ora importante partnership che fece ok crypto.com ai tempi la prima ovviamente quella colpa di san germain che fu letteralmente pazzesca ok ma dopo andremo a vedere perché ci fu sia il super pampone ok di crypto.com sia come poi ci fu letteralmente il dampone quindi questa prima importante partnership successivamente vediamo che addirittura crypto.com ha raggiunto 2.6 milioni ok di follower veramente un qualcosa di pazzesco ok per una piattaforma e soprattutto quello che fu letteralmente il suo prodotto che la lanciò letteralmente in alto fu la sua carta vi ricordo la crypto.com card che praticamente fino a 350 euro di deposito in crow vi dà il 1% fino a 3500 euro il 2% fino a 35 mila euro il 3% di cashback rewards in crow e fino a 350 mila euro il 5% quindi veramente cose assurde ok perché dubito che soprattutto in questo momento in mercato qualcuno abbia 350 mila euro sulla carta però inoltre vi davano un sacco di benefici tra i quali spotify netflix prime anche cashback su b&b insomma tantissime cose molto interessanti quindi l'hanno pompata la grande poi ci fu addirittura non so se l'acquisto comunque l'esposizione ok del logo di crow all'interno della lakers arena io dubito che ci sia stato un acquisto effettivo perché sborsare 700 milioni in liquidità la vedo qualcosa di difficile ok però comunque arrivo questa notizia che assolutamente non è da sottovalutare e per raggiungere ok il tutto all'epoca si dava addirittura il 20 per cento di rewards sullo staking dei propri cross arrivò addirittura a un massimo dei 50 per cento annuo ora tutto questo era insostenibile infatti poi sono andati letteralmente abbassare le piai c'è stato un interiore partnership anche qui si parla di aver sborsato 175 milioni di dollari per la ufc vedete qui con un mcg quindi veramente qualcosa è assurdo quello che c'è cripto.com e che non si è mai visto prima una storia a livelli marketing ora cerchiamo di capire se bit get sta facendo qualcosa di simile sta spingendo sui marketing ok quando lo vedrai più in particolare ovviamente lo so nei corsi finanziati nei corsi di 30 ci tengo a ribadirlo e che cosa vediamo qui cripto.com riceve l'elettronic money institution licenza da malta quindi addirittura riconosciuta letteralmente a livello europeo quindi capite che con tutto questa pubblicità portò tantissimi ok tantissimi soggetti all'investimento nel token cross successivamente quando ci fu la bolla cripto poi ci fu letteralmente il dampone ora cerchiamo di ragionare ha senso ancora stare su cripto.com allora per chi diciamo ci crede ok tra virgolette ha senso recentemente hanno anche listato bon contro shib ok quindi noi shibisti diciamo è molto interessante il tutto e in questo momento si trova un prezzo nominale di 0.067 con oltamai a 0.95 quindi praticamente ritornasse ok vecchi massimi siamo letteralmente in un'area di lateralizzazione sarebbe un 1.336 per cento magari in aggiunta a un aumento della cripto del market cap potrebbe addirittura anche passare quello che sono i vecchi massimi vi ricordo però praticamente ai vecchi livelli guardate qui del 2021 primo elemento e sappiamo come caratterizzato da pump and dump quindi a me non sorprenderebbe in ottica il coinciso che prenda e vada letteralmente su vi ricordo che per l'azione di 1.700 miliardi questo elemento bisogna assolutamente tenerlo sott'occhio perché ci servirà per analizzare in questo momento il token bgb di bitcoin ora andiamo a vedere il tutto manca ancora notizia per quanto riguarda che aveva dato comunque vita un piano assicurativo che avrebbe coperto fino a 750 milioni di liquidità quindi tra virgolette sono andati a parare letteralmente poi i loro clienti in caso di insolvenza perché sapevano ok che spingevano tanto col marketing ovviamente quando vi spingete tanto col marketing c'è un rischio ok perché se il marketing non va a buon fine si resta senza liquidità e rimanere senza liquidità implica la morte in questo caso dell'exchange ora nel ragionare su bgb a me è piaciuto tantissimo la strategia che sono andate a fare ok e vorrei mostrarvi quello che è il prezzo perché loro si sono caratterizzati rispetto degli altri poi un elemento sono usciti durante il bear market quindi hanno aspettato il bull l'hanno letteralmente aspettato hanno detto non usciamo adesso se noi ci prendiamo letteralmente una bastonata usciamo in bear market e quindi praticamente qui il grafico ok di coi market cap ci dice che cosa ci c'è che siamo partì a 7 centesimi ora siamo a 0 46 stiamo attaccando l'olta mai ok tra virgolette primo elemento e la capitalizzazione in questo caso di 643 milioni quindi un terzo rispetto a quella di croc primo elemento da tenere quindi capitalizzazione un terzo poi volumi 32 milioni insensibile aumento c'è market cap rispetto a volumi ancora bassa però rispetto a ieri per dire c'è un 400 per cento di più ed è per questo che oggi bitcats sta facendo skyrocket secondo elemento quando è stato lanciato il token il token è stato già lanciato il 5 maggio 2022 che cosa succedeva in quelle date ve lo ricordate esatto scandalo tarai luna classic quindi un lancio tra virgolette che secondo me non ha soddisfatto le aspettative però successivamente hanno letteralmente sfruttato questo rally ok se lo sono autocreati questo è molto interessante ok soprattutto in ottica futuro ora andremo a vederlo cose da considerare in questo momento hanno stato una partnership con la juve è vero che la juventus non è assolutamente pari san germain primo elemento però si stanno facendo tantissima pubblicità quindi questo è un primo elemento e sono partite ancora in sordina ok secondo me in questo momento prezzo minimale di 0.46 e 4 ok quindi sta letteralmente andando su anche oggi bel candeleone se ne vedete il candeleone giornaliero ve lo illustro subito e secondo me non dico che sta andando fuori controllo però potrebbe essere più 6 per cento che è tantissimo quindi secondo me ha tanto spazio perché abbiamo la capitalizzazione con un terzo rispetto a quelli che però e dopo vi dirò quella che è la mia e stiamo letteralmente ok andando su vi ricordo che se anche tu non hai bitcoin trovi sotto alla fine descrizione avrai 20 per cento di sconto sulle trading fee e ovviamente potrai sempre rimanere aggiornato anche sulle promo con il mio rafferente detto questo che cosa vediamo questa è la piattaforma se vuoi iniziare un po smanettarci ok letteralmente e come vedi io ho dei di bgb ok qui quindi ovviamente non sono le cose finanziarie cose di trading poi cosa molto interessante è l'earn cioè mettendo in staking i bgb in questo momento non è che sta andando tantissimo che di api e questo è un elemento molto ma molto interessante 6 per cento sui sette giorni annuale 3.50 per cento sui tre giorni ovviamente sold out ok perché tutti stanno mettendo in staking e quindi secondo me questo ha grande potenziale ok questo token bgb tra virgolette perché stanno facendo marketing devastante poi anche loro hanno allocato 200 milioni ok di protezione ai fondi in caso eventualmente può succedere che nulla è sicuro in questo mondo soprattutto sui cripto in caso di scandalo che è letteralmente di scandalo andranno a ripagare tra le loro tra virgolette i loro clienti ok per un controvalore massimo di 200 milioni ovviamente non andranno a recuperare tutto però questo mi fa ben sparare poi la workforce la forza lavoro è in aumento siamo arrivati a mille employees quindi mille impiegati e sono partiti nel 2021 con 150 quindi a livello aziendale secondo me sta andando molto molto bene ok ovviamente anche voi fate le vostre studi tutto dovete studiare ok tutto ora vorrei darvi un termine paragone queste sono possibili previsioni in base che cosa in base a come stando cro allora in questo momento cro 1.7 milioni ok di capitalizzazione prezzo dominale 0.06 e 7 oltamai 0.95 potenzialmente se cro ritornasse ok vecchi massimi sarebbe un 15x bene bgb quindi capitalizza un terzo di cro lo vediamo chiaramente 640 milioni quindi un terzo prezzo dominale di 0.46 e pensate l'olta mai non lo sappiamo però dovesse raggiungere la stessa cap di cro durante il bull market sarebbe esattamente un 45x ora fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate se secondo voi bgb da qui la prossima buran potrebbe fare letteralmente un 45x e ovviamente vi ricordo che se anche voi volete assolutamente approfondire il mondo cripto potete cliccare il link che trovate sotto in descrizione e potrete effettuare letteralmente una call con me in modo tale da capire che cosa capire quelli che sono le vostre esigenze capire quello che volete migliorare e insieme andare a strutturare un vero e proprio percorso e per cui se vi è piaciuto questo video vi ricordo di di suggerire il like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista hombre